L'obiettivo è di selezionare degli studenti particolarmente portati alla ricerca e di spingerli ulteriormente lavorando in un ambiente multidisciplinare. Integrando diverse competenze fin dagli stadi più precoci della loro formazione. Le persone verranno scelte all'interno dei diversi corsi di laurea dai docenti che partecipano all'iniziativa sulla base del merito accademico e della motivazione che hanno verso la ricerca. Ci saranno soprattutto organizzazioni di seminari e discussione. Magari inviteremo degli ospiti per fare dei seminari, ma soprattutto ci teniamo a fare dei seminari tra gli studenti su argomenti che sono di punta nella ricerca e che per essere compresi hanno bisogno di competenze diverse. La scienza è piena di avanti che sono provato da nuove tecnologie, e queste tecnologie often come from outside the lines of study that the problem, where the problem arises. In my own career, I first had to learn genetics, then I had to learn cell biology, molecular biology, biochemistry, all of these were things that you'd bring people into the lab with different expertise, and the combining of their expertise makes a much more powerful move forward. It's really very difficult to imagine a focused activity in a confined area of any subject in science where you're not influenced by all the other areas in which advances are made. I mean, scientists automatically look outside their own arena for ways in which they can solve their own problems. Io studio Biotechnology for Neuroscience, che è un nuovissimo corso di l'area magistrale in Biotecnologie Mediche. È un corso di studi estremamente multidisciplinare, sia dal punto di vista del Data Science, quindi analisi dati e bioinformatica, sia dal punto di vista delle conoscenze neuroscientifiche, diciamo più in qualunque ambito, dal punto di vista molecolare, dal punto di vista anatomico, eccetera. La mia speranza è partecipare a questo progetto e eventualmente ottenere un lavoro di ricerca. www.biotecnologie.com . Grazie.